Grazie 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 Andrei Ti dici se proviamo la cosa Mi si chiama La Giava Grazie 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 A posto. Va bene? Va bene? Ok, grazie. Ok, va bene, grazie. Hai un po' il palco a posto, il 58 del ciamino davanti, ok. Sì, mandolino. Hai cambiato qualcosa nel fianco? No? Suonamela un po' modello. È scordata? Ok, come? Dove deve essere un po' più vicino qua, forse viene da più vicino. No, sta dentro qua. Finca onno, no? Sta dentro Marco. Hai cambiato? Hai cambiato una cosa? Sì, va meglio, è solo da rifare i livelli che è più alto. Com'è? Giusto così? Anche il quattro? Ok. Va bene, a posto. Oh Oh A presto. 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 A presto.